Adesso vediamo questi casi, casi d'uso, vediamo il caso di un'autovettura non assegnata quindi con un calcolo anche di costi che superano le soglie di deducibilità, poi le rate variabili, le fatture di conguaglio che mi sono state chieste, i riscatti e la moratoria che è l'ultima implementazione che abbiamo fatto, la più recente sulla gestione dei beni leasing. Allora cominciamo con l'auto non assegnata di cui avevo già stampato l'anagrafica che ho inserito, vedete è un'auto di un valore di 27.500 che supera l'importo massimo deducibile, sono i classici 18.075-99 gli stessi che sono utilizzati anche nella gestione dei cespiti di proprietà. Allora è un automezzo non assegnato quindi con IVA parzialmente detraibile, al 21 perché quando l'ho inserito l'IVA era al 21, l'importo delle spese, i calcoli, il piano d'ammortamento che è già stato in parte contabilizzato. No, ho già contabilizzato tutto, sì qui abbiamo già fatto tutto. Vedete queste rate ve le faccio vedere che non hanno la data, non hanno i riferimenti alla prima nota perché io le ho impostate come contabilizzate in automatico con quella funzione di modifica in blocco. Visto che l'ho inserito, è il bene 3, non sono andata a contabilizzare in prima nota rata per rata ma le ho marcate con la modifica in blocco, le ho marcate come contabilizzate, semplicemente, quindi vengono marcate col pallino. Invece per il 2013 ho fatto le registrazioni proprio in prima nota delle diverse rate. Andiamo a vedere il calcolo, il risconto non cambia, quello che cambia invece è nel calcolo degli interessi per quanto riguarda questa parte. Allora noi abbiamo che l'importo massimo deducibile è 18.075, quindi abbiamo un rapporto di deducibilità di 58,38 che non è altro che il costo sostenuto dal concedente rapportato all'importo massimo deducibile. Quindi dei costi determinati il 58,38 lo posso dedurre, l'altro il 41 e il 62 no, eccede il rapporto di deducibilità e quindi questi 358 e 51 vengono contabilizzati nel conto di canoni di leasing per indeducibili. Quindi il conto che abbiamo inserito nella tabella dei conti automatici, questo qua, questi due, canoni e interessi. Andiamo a vedere la stampa che abbiamo fatto prima, l'auto non assegnata è questa, abbiamo il risconto, abbiamo i canoni per l'auto vettura non assegnata e abbiamo la determinazione degli interessi indeducibili, gli interessi non assegnati quindi per i quali poi sarà calcolata la quota deducibile al 20% e i canoni indeducibili, questi sono indeducibili quindi sono variazioni in aumento definitive secche per il totale a livello di raccordo invece questo che sono interessi e i canoni per l'auto non assegnata in raccordo mi genereranno sempre una variazione in aumento sempre definitiva ma non più per il totale solo per la parte indeducibile che è l'80% quindi quasi il totale anche in questo caso infatti ho messo la slide anche del raccordo, ecco questa è la stampa del raccordo vi ho evidenziato in rosso quelle che sono le quote dei canoni di leasing quindi la canone di leasing auto non assegnata ha un importo di 1825-34 e una variazione in aumento definitiva per l'80% i canoni per auto indeducibili invece hanno una variazione in aumento definitiva per il totale stessa cosa per gli interessi, gli interessi di leasing non assegnati e gli indeducibili il caso invece di rate variabili allora abbiamo detto, l'abbiamo già accennato, quando inseriamo il contratto di leasing noi andiamo ad inserire l'importo della rata come risulta da contratto se poi le rate sono variabili diciamo che andremo ad inserire l'importo della prima rata poi nel tempo andiamo a registrare le fatture che man mano riceviamo e andiamo ad indicare nel momento in cui registriamo quello che è effettivamente l'importo della rata facciamo proprio la registrazione in prima nota io devo registrare l'ultima rata, quella del 31-12 le altre le ho già registrate sempre la mia società di leasing ipotizziamo che io avevo impostato 250 euro invece mi arriva una rata di 265 più IVA quindi 329,40 apriamo il bene in leasing in questo caso il numero 1 andiamo sulla rata del 31-12 la selezioniamo e andiamo a sostituire sull'importo quello proposto con l'importo effettivo che c'è sulla fattura 265 poi ci sono 5 euro di spese di incasso che sono sempre quelle live il 22 questo dovevo modificarlo non l'ho ancora fatto in blocco però quando faccio la registrazione vado a impostare l'IVA corretta confermo e abbiamo la fattura 270 che ripeto sono 265 di canone e 5 euro di interessi andiamo a vedere nei calcoli annuali questa rettifica 15 è proprio quello che abbiamo contabilizzato adesso ovvero io nel piano finanziario avevo 250 ho contabilizzato una rata di 265 ho una differenza di 15 euro la vedo poi nelle rettifiche per determinare quello che è il costo di competenza comprensivo delle rettifiche quindi diciamo il piano ammortamento è una base di partenza poi i dati reali sono io che gliele dico di volta in volta quando registro l'altro caso frequente si ha quando le società di leasing mandano periodicamente dei conguagli interessi possono essere delle note debito come delle note credito e viene specificato in fattura che si tratta di un conguaglio esclusivamente di interessi non è una rata quindi noi in prima nota andiamo a registrare questa nota debito o credito adesso noi ipotizziamo un conguaglio interessi come nota debito quindi una fattura ricevuta quindi si fatturano ulteriori interessi ipotizziamo interessi per 50 euro più IVA 61 qui non mi aggancio al bene leasing perché la rata io l'ho già contabilizzata la rata sono le fatture periodiche che mi arrivano solo per il canone quando mi arriva un conguaglio non è una non devo recuperare la rata perché la rata l'ho già contabilizzata quindi in prima nota registro la fattura movimentando comunque sempre il conto che ho inserito nell'anagrafica perché è sempre un'operazione legata al leasing qui vado avanti non richiamo il bene e compilo il castelletto IVA poi manualmente entro nell'anagrafica del bene leasing nel suo piano finanziario vado nella rata alla quale si riferisce il conguaglio io qui ho rate semestrali quindi ipotizzo che mi è arrivato il conguaglio per la rata di dicembre e vado ad aggiungere oppure a togliere gli interessi da conguaglio in questo caso era una nota debito quindi ai 275 aggiungo i 50 euro di interessi confermo tutto se adesso torno nei calcoli annuali la rettifica è i 15 che abbiamo visto prima e i 50 euro di interessi totale 65 sempre sui canoni periodici quindi ripeto se c'è un conguaglio di soli interessi noi registriamo la fattura senza nessun aggancio al bene leasing perché non è una fattura della rata andiamo poi successivamente a modificare l'importo non possiamo registrare una rata due volte ok e questo è il caso a un'altra cosa il quota interessi deve essere poi riportata a pagina 2 del calcolo annuale perché appunto non essendoci collegamento con la prima nota la rettifica va importata qua ah no l'abbiamo ah si allora il programma in automatico non ve lo mette l'avevo messa io per fare delle prove poi non l'ho tolta quindi i 50 che vedete non sono stati messi in automatico ma manualmente da me non in questo momento ma li ho messi io manualmente vediamo l'altro caso che è quello di riscatto vedremo prima il riscatto del leasing quello che si ha normalmente alla scadenza del contratto e poi vedremo il caso anche di un riscatto anticipato allora quando mi arriva la fattura per il riscatto sempre in emissione prima nota vado a registrare la fattura allora nel mio esempio che mi sono preparata il riscatto ce l'ho al 30 di giugno sempre la società di leasing ho un riscatto di 15.000 più IVA quindi 18.500 utilizzo utilizzo sempre comunque il conto dei canoni di leasing e il quello dice 2 e mi rimane come ultima rata quella della P e la P sta per riscatto quindi la confermo controllo i dati anche qua non ho cambiato l'aliquota IVA lo faccio adesso confermo e il programma mi apre questa maschera che conosciamo bene di inserimento del cespite come codice del cespite viene proposto il 2 perché io sto riscattando un bene in leasing a cui avevo attribuito il codice 2 solo in questa fase ed esclusivamente in questa fase posso anche modificare il codice cespite non successivamente lo sappiamo bene il codice cespite una volta inserito non si cambia più però solo in questa fase in cui trasferisco il bene dalla gestione leasing all'archivio cespite posso impostare un codice diverso ad esempio macchinario ex leasing non ci sta neanche la descrizione mi riporta la descrizione del bene leasing in questa posso modificarla quello che devo sicuramente obbligatoriamente fare è associare il codice conto codice conto in questo caso sono macchinari qui tipo automezzo se deducibile o meno me lo imposto in automatico il programma nel momento in cui riscatto se c'era già nella grafica del bene leasing stessa cosa per la deducibilità le aliquote me le propone perché io le avevo inserite nei dati per la nota integrativa poi ho i dati relativi al riscatto il costo sostenuto e il prezzo del riscatto confermiamo confermiamo il programma mi ha sostituito il conto che avevo utilizzato col conto macchinari e finisce ho sbagliato a calcolare l'iva si ho sbagliato a calcolare l'iva allora 15 e 18 3 ecco andiamo a vedere l'archivio dei beni dei cespiti e abbiamo il nostro bene con il calcolo dell'ammortamento del periodo se andiamo in annuali nel bene 2 vedete il riscontro lo vedo già qua è 0 basta il contratto è finito non riscontro più niente sono all'ultimo anno cosa succede invece quando il risconto il riscatto è anticipato allora sempre in emissione prima nota vado sempre in data 30 giugno a riscattare bene il leasing io ho contabilizzato le rate sino al 30 giugno poi avrei rate ancora il 31 luglio e così via fino alla scadenza del leasing che era fissata tra due anni invece lo riscatto adesso quindi io vado nella rata del riscatto che è questa la data va bene l'importo lo devo sicuramente modificare perché se io riscatto prima il bene il leasing lo pago di più non pago i canoni per due anni e la società deve recuperare quei canoni che per due anni non pagherò e quindi il costo di riscatto sarà un po' più alto ipotizziamo che qui modifichiamo l'iva confermiamo stessa cosa il conto macchinari confermiamo ho sbagliato ah perché a giugno c'era l'iva ancora al 21 è vero è vero è vero ho sbagliato negli esempi a cambiarlo ok e abbiamo ok e abbiamo registrato il riscatto andiamo a vedere l'anagrafica del bene ovviamente nella gestione cespiti abbiamo il bene il 2 bis intanto intanto vediamo che è riscattato andiamo nel piano ammortamento vedete che il riscatto è qua tutte queste sono rosse quindi non saranno più contabilizzate andiamo a vedere il calcolo negli annuali 2 bis abbiamo comunque un risconto nel periodo che sarà riportato l'anno prossimo poi basta perché non contabilizzeremo più perché comunque i costi che abbiamo sostenuto sono in parte anche relativi agli anni successivi niente di particolare ecco su questo andiamo riscatto anticipato abbiamo visto ecco il programma riscatto anticipato ah si specifichiamolo un po' meglio è vero l'importo ecco diciamo che questo 420 e 18 il programma non procede a contabilizzarlo perché in questo caso l'utente ha a disposizione proprio secondo la normativa scelte diverse su come gestire quel risconto quindi sarà lui a decidere se spesarsi quei 420 tutto quest'anno nell'anno di riscatto quindi lasciare tutto com'è visto che i 420 sono compresi nei costi contabilizzati oppure se vuole portarselo come costo incrementativo del cespite sono valutazioni che fa insieme al consulente se si opta per questa opzione in prima nota si fa un giro conto tra il conto del leasing il conto dei canoni che è stato utilizzato e il conto del macchinario e poi manualmente si va a fare un apporto perché con il giro conto ovviamente non si apre il collegamento all'archivio cespiti manualmente si andrà a fare un apporto per gli ulteriori 420 euro questo decide la società come gestirlo oppure non rileva niente quei 420 euro sono costi dell'esercizio comunque gratifico quello che ho detto prima non sono costi da riportare agli anni successivi il leasing è più chiuso non c'è più niente vediamo in ultimo la moratoria cos'è la moratoria la moratoria è la possibilità data ai titolari di contratti di leasing di sospendere per un certo periodo fino ad un massimo di 12 mesi il pagamento del leasing non di tutto il leasing ma della quota cosiddetta capitale quindi per il periodo di sospensione si pagherà solo una quota relativa di interessi questo comporta però che la durata del leasing quindi il suo termine e la data di riscatto vengano rimandate ad una data successiva quindi il contratto si allunga esattamente del periodo di sospensione come si gestisce nel programma andiamo prima di tutto a richiamare il bene in leasing in questo caso questo andiamo nel piano di ammortamento dove abbiamo già contabilizzato in automatico e nel 2013 tutte le rate e c'è la funzione moratoria la funzione moratoria serve proprio per gestire questo caso e io devo andare ad indicare quali rate vengono sospese o quali rate vengono sospese indicando il numero oppure gli imposto il periodo io gli dico che abbiamo concordato una moratoria di sei mesi quindi l'ultima rata io l'ho pagata il 31 ottobre dal 1 novembre 2013 al 30 aprile 2014 il contratto entra in moratoria confermiamo sei rate dalla 51 del 1 novembre dal 1 novembre dal 30 alla 56 confermiamo adesso le rate che rientrano nel periodo di moratoria vengono contraddistinte intanto con un meno e vedete che l'importo corrisponde solo ad una quota di interessi interessi calcolati sul debito residuo che c'era al momento del pagamento dell'ultima rata poi dalla rata del 31 maggio ripartono i canoni periodici classici quello che è cambiato è la durata del leasing io non ve l'ho fatto vedere prima ma forse riusciamo ecco il leasing doveva terminare il 31 agosto 2019 abbiamo fatto la moratoria per sei mesi terminerà a febbraio dell'anno successivo del 2020 quindi aumenta di sei mesi questo cosa comporta comporta innanzitutto che i giorni del leasing si sono allungati e un contratto che doveva terminare nel 2019 termina nel 2020 poi comporta che anche i costi sui quali saranno calcolati risconti interessi cambiano infatti questo era la situazione iniziale con post moratoria vediamo come varia la situazione allora la moratoria è iniziata il primo novembre prima che si inserisse la moratoria mi residuavano 2130 giorni una volta inserita la moratoria il contratto ha una ulteriore una durata rimanente di 2312 giorni più alta sono i sei mesi in più ho costi ancora da sostenere per 77 mila euro che sono ancora da sostenere in base al contratto in base ai costi di competenza già rilevati fino alla data di ingresso della moratoria quindi adesso abbiamo un costo giornaliero del leasing di 33,57 lo stesso calcolo per gli interessi andiamo sulle slide dove il calcolo è esplicitato quindi è più chiaro ecco il costo da sostenere è il costo giornaliero del leasing antemoratoria moltiplicato per i giorni antemoratoria e a questi così determinati si aggiungono le rate di suoi interessi andiamo negli annuali era questo allora era questo si no l'ho contabilizzato ah no non ho confermato ecco ecco non avevo confermato nel calcolo adesso abbiamo in corrispondenza dei determinazioni dei costi giornalieri due colonne una è il costo giornaliero antemoratoria e una è il costo giornaliero postemoratoria che è più basso perché adesso il contratto si spalma su un periodo più lungo quindi singolarmente ogni giorno viene un po' di meno e qua abbiamo suddivisi i 365 giorni del 2013 quanti sono relativi al periodo antemoratoria e quanti postmoratoria e il costo di competenza è dato dalla somma di questo per questo più questo per questo poi dall'anno prossimo sarà utilizzato solo il costo giornaliero postmoratoria però per quest'anno nel quale è avvenuta la moratoria bisogna nel calcolo considerare anche questa modifica del contratto e quindi si utilizzano due costi giornalieri diversi stesso calcolo avviene nel calcolo degli interessi impliciti anche qui gli interessi impliciti antemoratoria e postmoratoria qui gli interessi sono un po' più alti perché si il contratto si è allungato ho più giorni però ho avuto un periodo in cui ho pagato solo interessi quindi sono alla fine leggere qualcosina in più nel postmoratoria e anche qua i giorni sono sempre quelli e nel calcolare gli interessi del periodo viene fatto la stessa proporzione lo stessa somma questo per questo più questo per questo è che è che è che è che è che è che Grazie.